E' stata spostata a mercoledì prossimo la seduta del Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta ad un'alminità nella conferenza dei capigruppo per approfondire soprattutto il punto che riguarda l'abolizione dell'Arsan, l'Agenzia regionale sanitaria. Un'abolizione che da sola produrrebbe un risparmio di 9 milioni di euro all'anno per la Regione. Stiamo portando avanti una serie di iniziative di ridimensionamento del bilancio, quindi di lotta alle spese e non a caso sul bilancio preventivo che noi stiamo elaborando e che abbiamo elaborato ieri in ufficio di Presidenza abbiamo previsto un taglio di 4 milioni di euro sulle spese e chiudiamo sul 2015 con un risparmio di circa 5 milioni di euro su quello che era il bilancio preventivo che il Centrodestra e il Governo precedente avevano messo. Saranno ridimensionate da 43 a 6 le società miste della Regione Campania. Questo è l'obiettivo finale con un risparmio stimato in oltre 15 milioni di euro. Un colpo d'acceleratore da parte dell'Aggiunta che qualche osservatore esterno definisce troppo violento leggendo nel rinvio del Consiglio al prossimo 9 dicembre qualche malumore interno alla maggioranza stessa. Una tesi questa che Maraio definisce non vera. Non mi risulta che ci siano problemi. Ho parlato ieri a margine del Consiglio regionale Collello Topo che è il Presidente della Commissione Sanità il quale ha garantito che nel volgere di pochi giorni si arriverà all'approvazione di una legge di modifica e quindi di una proposta in commissione di modifica e di azzeramento dell'Arsan sulla quale stanno lavorando per evitare di crearsi problemi.